Ciao adorabili amici, iniziano le liste per Ikoria. Per prima cosa ringrazio Wizard che mi ha permesso di provare in anteprima le carte di Ikoria con lo streamer event. Mi ha donato questo account temporaneo con accesso a un'infinità di gemme assurda e potenzialmente tutte le carte presenti su Magic Arena. È un account temporaneo, quindi so che vedrete un numero assurdo di gemme, è perché è l'account donato agli streamer per lo streamer event. Quindi grazie mille Wizard. Questo però cosa significa? Che siamo proprio agli inizi di un nuovo set, ma neanche iniziato il nuovo set. Quindi questa lista è molto divertente, è fighissima, mi sono divertito un casino a giocarla, però fate attenzione, non investiteci wildcards. Non posso darvi ora la garanzia che questo sia un deck competitivo. Vi do la garanzia che è super divertente, lo vedrete nei gameplay. Ci sono delle nuove carte con un sacco di potenziale per effettivamente trovare gioco in standard, però la premessa sempre è risparmiate in questo periodo. Cercate di tenervi da parte le wildcards. Partirei dal cherugone, il macrosavio. Questo companion costa 5, 2 ibridi simic, 5-4, e ci chiede, per giocarlo come companion, che il tuo mazzo iniziale contenga solo carte con costo di mana convertito pari o superiore a 3 e le carte terra. Poi quando entra nel campo di battaglia, ci fa pescare una carta per ogni altro permanente che controlli, con costo di mana convertito pari o superiore a 3. Quindi la richiesta in realtà non è così difficile da assecondare. Posto che io penso che questo qui sia un companion fortissimo, l'abbiamo provato anche durante la diretta con Fires. Questa è una versione un po' più spicy di Fires. Volevo iniziare con un deck più spicy, piuttosto che portare il classico Fires. Anche Planeswalker che gioca a Keruga. Pesca un botto. È una carta in più in mano e in più è un 5-4, quindi mena anche tanto. Companion non da sottovalutare, anche perché comunque di giocate da fare prima del turno 3 ce l'abbiamo. Abbiamo il gigante sbriciola ossa che fa da spot removal contro aggro. Abbiamo il Godzilla da ciclare. Sarò sincero, non sono riuscito a utilizzarlo come payoff, ma ci siamo andati vicini. La possibilità appunto di pagare due e ciclarlo ci permette di pescare nel turno in cui non possiamo fare nulla per Keruga. Poi abbiamo una mana base tricolor, quindi ci sta l'idea di rimanere fermi due turni. E poi, come dire, iniziare a menare gli aggro con Chiarina. Abbiamo anche Shutter di Sky, quindi abbiamo, come dire, la possibilità di riprenderci la board dopo che l'abbiamo persa perché non abbiamo giocate a turno 2. Altra giocata da fare in early, ovviamente, abbiamo Teferi. Cioè, mi spiace, lo so, Teferi è una carta sgarbatissima, ma se giochiamo G-Sky non possiamo non giocare Teferi. Poi, giocando questa combinazione di colori, mi piace l'idea di giocare Ionize. E in alternativa c'è il nuovo counter, quello che cicla 2. La versione budget utilizza Neutralizzare, quindi se non volete utilizzare le Wildcarts per Ionize andate pure di neutralizzare. La mana base lo regge. Vi ho parlato di Shutter di Sky, vi parlo anche di Espelth vince la morte, che non possiamo non giocare, eccezionale removal. Ora vediamo le carte spicy. Abbiamo il Tifone di Squali, carta iperversatile e fighissima. Io adoro questo incantesimo. Allora, posto che ciclo lo puoi usare nel turno dell'avversario, quindi mal che vada paghiamo 4 e mettiamo un 2-2 volante che ci fa pescare una carta. Cioè peschi sicuramente meno rispetto i droide, ma hai la possibilità di farlo nel turno dell'avversario. E questa cosa è assurda. In più è un mega payoff, perché se lo giochi come incantesimo fa davvero i buchi. È un chiodo a 6, siamo d'accordo. Ma con l'abilità ciclo diventa estremamente versatile. Quindi contro aggro giochi lo squalo che va a bloccare. Intervengo con l'editing, perché durante la deck tech mi sono dimenticato di dire che questo incantesimo countera Teferi. Cioè la forza è che non solo possiamo fare lo squalo per bloccare contro aggro, ma anche contro Teferi, perché ciclo non viene influenzato dall'abilità statica di Teferi. Quindi, ad esempio, l'avversario fa la meno 3 di Teferi, gli rimane Teferi a 1 di vita, noi cicliamo il nostro sgarbatissimo incantesimo, mettiamo in gioco quindi il token volante che potrà a prossimo turno attaccare Teferi. Plus importantissimo per questo incantesimo. L'altro squalo non vola, ma è un mezzo counter, neutralizza magia artefatto e magia creature. È un 5-4-5, quindi anche lui mette pressione. Mi piace un casino e volevo testarlo, ed è una carta che per ora non mi sta deludendo. Un'altra carta che sto amando, amando, è Narset. Che durante il video, non so perché, chiamo tipo Espelt, però quando dico Espelt è Narset, piccolo spoiler sui gameplay. Mi piace un casino sto Planeswalker. È vero, la più 1 non è entusiasmante, però per come è costruito il deck ci sono delle spell che vogliamo, tra virgolette, rampare. Cioè abbiamo il tifone e abbiamo l'ultimatum. La meno 2 ci fa pescare una carta e scartare una carta e fa dar removal per creature e Planeswalker. Quindi utilissima la meno 2 perché hai questa possibilità che, sì, scarti una carta cicciona. Magari gli scarti, che ne so, Godzilla e fai 7 danni e togli qualsiasi roba, togli qualsiasi Planeswalker, a qualsiasi loyalty. Però intanto non è solo scartare, hai sostituito con una nuova carta. E quindi la meno 2, il fatto che prenda anche i Planeswalker, la rende estremamente giocabile, mettiamola così. E poi la meno 6, la ultimate, è facilissima da raggiungere. Non voglio spoilerarvi i gameplay, però la meno 6 è davvero semplice da raggiungere. L'ultimatum, carta pesantissima. Come abbiamo detto, Narset ci aiuta perché ci aiuta a rampare. Fa tantissima roba per settimana. È tamarrissimo. In questa lista Jeskai fare ultimatum col tifone degli squali è davvero spicy. Voglio ancora dire due parole su Godzilla. È vero che non sono mai riuscito a ciclarlo e giocarlo con il suo effetto, cioè dopo averlo ciclato quattro volte. Ma è un deck che, come dire, arriva ad avere 7 mana. Come vi ho detto a inizio video, siamo agli inizi di un nuovo standard, quindi non posso darvi la garanzia che questo deck sia effettivamente competitivo. Vi dico, è sicuramente molto divertente da giocare. Jeskai è la combinazione control che personalmente preferisco e che mi diverte di più. Ma non abbiamo la certezza che Narset valga 3 wild cards mitiche. Quindi, quindi. Io ho approfittato dello streamer event per testarlo e quindi non mi è costato nulla. Sicuramente questa è una carta dal potenziale enorme. Sicuramente che Ruga diventerà secondo me competitivo come companion. Tra l'altro ho preso botte da Mangucci, quindi è sempre bello fare figure di cacca. E niente, però il deck è divertente. Mi raccomando, non perdetevi il gameplay. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Con Ikoria continuerò a portarvi un sacco di liste super spicy. E in descrizione trovate anche il link per i miei canali social. E trovate anche il link per il mio canale Twitch, dove vado spesso in diretta, ma purtroppo faccio fatica a trovare, come dire, una schedule fissa. Quindi seguitemi su Instagram. È lì dove pubblico gli orari delle mie dirette. Iniziamo noi. Abbiamo turno 2 gigante, turno 3 teferi. In alternativa il gigante Godzilla. Teniamo. Teniamo assolutamente. Tu non cambi colore, vero? Oh sì. No, non cambi colore. Uff, blu. Vedremo. Vedremo se ci countererà la vita. Bella la bustina dello squalo. Ma voglio anch'io. Ok, fa nascita di Meletis. Cicliamo Godzilla. Ok. Io qua farei teferi. Teferi? Eh, poi gli rimbalziamo il muro. O altre cose noiose. Prossimo turno. In realtà facciamo il trioma. E teniamo open il gigante. Ok. Ciao teferi. Uh, Narset. Il problema è che Narset... Sì, la riesco a giocare. Arriva Narset. Facciamo... Potremmo fare la meno due o pushare per fare l'emblema. Che in questo matchup, vedendo quanto è controlloso l'avversario, potrebbe anche starci. E prossimo turno possiamo fare Aspelt Conquer's Death. Anche perché con la meno due magari la utilizziamo su per dire un teferi. Oh madonna che è successo. Ok. Allora, questo turno, lui tiene open. Io potrei provare a fare Aspelt Conquer's Death qua. Quindi. Fa sempre un attimo lo spavento, sta abilità. Proviamo a riprenderci i teferi. Vediamo se arriva il counter. Anche se è un solo mana blu open. Infatti. Così è. Ora. Con teferi potrei rimbalzare Aspelt Conquer's Death. Rigiocarla. No. La voglio far attivare. Lo facciamo dopo. Adesso giochiamo il Trioma. E poi il prossimo turno abbiamo Keruga. Arriva un Ops da Shelly Day. Quindi. Cinque open. Iorion. Qua non c'è. Come companion. Ho un po' l'incubo di Iorion. Keruga ha anche. È un incubo di companion. Troppo forte raga. Cioè. Adesso vedrete che roba fa. Quindi. Gli costano più due le magie avversarie. Può avere un giga counter eh. Non lo nego. Partirei con Keruga. E poi decidiamo cosa fare. Anche perché non ho altro di interessante. E Narset visto che fa fatica. Allora il punto è questo. Io ulterò con Narset. Ok. Uh Sharknado. Io adesso ulto con Narset. Perché poi la posso riprendere eventualmente prossimo turno con Espelth. Con Quersedat. Quindi abbiamo un emblema che mette pressione. All'avversario. E non mi dispiace. Sarò sincera. Anche perché con Espelth. Facciamo. Lo facciamo tornare con 5 di loyalty. Come l'ho chiamata? Narset. Ma la sto continuando a chiamare Espelth. Narset. Fail. No. Mi toglie te feri. No. Non teme la mia amica Espelth. Loyalitat. Ah qua. C'è un problema di traduzione. Allora. Ehm. Ma. Così. Attacchiamo con Keruga. Ok. Champ blocca. Poi. Con lei. Quanto mana ho? 6. 7. 8. Quindi riesco a fare Shark, Typhoon. E ho open un gigante sbriciolos. Dai. Che setup assurdo è? Narset Shark, Typhoon. Con Teferi che regge il tutto. E comunque qua facciamo due danni a qualsiasi bersaglio. Cioè anche possiamo contro un deck più aggressivo. Avremmo avuto un sacco di interazioni. Poi sicuramente qua non ho tenuto open Ionize. E vedremo. Comunque volendo abbiamo la seconda ultata di Narset. Rendiamoci conto. Allora, io qua gli faccio usare... Gli faccio usare la meno 3 su un eventuale squalo. Quindi se mi rimbalza il Typhoon, comunque ho un altro target per attaccare Teferi. Vediamo cosa mi rimbalza. Mi rimbalzerà il Typhoon. Va bene. In questo modo... Io raga, magari riulto davvero con Narset. Io riulto, sono quattro danni al turno. Teferi glielo tolgo. Giusto perché ho il piacere di giocare a Magic e non a Airston. Quindi attaccherò con lo squalo Teferi. Con Keruga vado face. Va a 11. Riulto con Narset. Sparo quattro milioni di danni. E... Easy GG. Però per prima cosa... Andiamo all'attacco. Keruga face. Squalo su Teferi. Ok, cicla. Sì, si risolve. Io non posso far niente per sto maledetto Teferi. Va bene, ma facciamo così. Lo uccidiamo con Narset. Lo uccidiamo tranquilli con Narset. In questo modo. Lui non ha counter. Io faccio un altro emblema. Non mi interessa. Facciamo Shark Typhoon. Primo trigger, togliete Feri. Secondo trigger va a Go Face. Qua non mi interessa se ho missato l'Ital. Proprio... Mi interessa ben poco. No, no, non ho missato l'Ital. Abbiamo un altro gigante sbriciola ossa da sparargli in the face. Sharknado settato. Sento rumori interessanti dal piano di sopra. Oddio, stanno uccidendo qualcuno. E io sono qua a giocare con gli squali. Volanti. Nella mia mente. Forse... Sono talmente poco... Bella partita. Sono talmente poco affine alle pulizie di casa che questo forse è un aspirapolvere. Forse. Facciamo... Bella partita. GG! Squali volanti. Che ruga. Quale abbiamo provate tutte tranne Godzilla. Siamo contro Andrea Mengucci. E che onore. La teniamo. Mettiamo... Fumaria. Augura. Ok, quindi anche lui credo sia... Jeskai. Vai. Qua abbiamo una mano interessante. Discepoli reali. Risolviti. Ok, non è Jeskai. Non sembrerebbe. Sembra qualcosa di perverso e cattivo. Pesco una carta. Scarta. Catartic Reunion. Cicliamo. Ok. In realtà qua... Tu mi dai più due, son tre. C'è un teferi. Non abbiamo molto altro da fare. Lo portiamo a cinque. Vediamo se ci uccide. Vediamo se shatteriamo anche. Teferi per ora è in vita. No, arriva lo shock. Arriva lo shock. Noi siamo un po' inchiodati. Abbiamo che ruga... Questa tra l'altro fra un po' ci ulta. Porca Eva. E qua... Tesissima. Full control. Facciamo finta di avere un counter. Però siamo talmente disperati che faremo che ruga. Riva Fenice. Porca merda. Questo ci ulta. È un casino, è un casino. Riva Fenice castata. Va bene. Solo terre. Allora, Godzilla. Arriva Godzilla. Ah, noi abbiamo l'ultima atom. Questa mi ulta e mi spacca la vita. Oh, Gesù. E... Qua... Allora, la cosa che possiamo fare è shatter, togliergli questi. Però sicuramente lui mi rifà Fenice. Questa mi fa... Quattro carte quando lo fai infliggono... Sette. Sette. Otto. Gesù. Eh, mi sa che... Dobbiamo provare a fare così. Cicliamo ora e vediamo se troviamo qualcosa. Tipo il buon Crusher. Perché anche se io avessi fatto shatter di Sky qua. Con l'ulti dei discendenti. Ma do che botte. Andiamo a uno. Ci arriva Shock. Shock. Good game. Che botte. GG. Questa la teniamo. Sì, abbiamo il ciclo del tifone e eventualmente il gigante. Non andrei a mulligare, sincero. Sincero. E vediamo. Vedremo probabilmente Terra Rossa qua perché siamo dei forti. No, non vediamo Terra Rossa. Vediamo che l'opponent gioca a Temur. Sarà il mazzo con Song of Creation. In quel caso potrebbe servirci in tempi molto brevi un counter. Sì, ci serve un counter. Qua io voglio ciclare, no. Ci serve un counter, però troviamo il mana rosso, dai. Se ci fa Song, turno 4 e GG. Easy. Easy. Arriva il Bruto. Meno male. Perché giochi il Bruto? Che mazzo sei. Temur con il Bruto sarà qualcosa di mostruoso. Qualcosa con abilità sgarbate. Ci arriva il secondo rosso e in realtà lo giocherò così ho eventualmente doppio gigante. Poi lui sembra un mazzo aggressivo. Itinerario tortuoso. Allora, io qua posso ciclare a 4 e fare squalo. E pescare. Sì, lo devo fare. Lo voglio fare ora perché non è il mega value che otteniamo dal tifone. Ma in questo modo... Ok, peschiamo Narset. In questo modo togliamo Ginger Brut. Chiarina non ci fa troppo piacere. Qua teniamo open lo squalo vorace. Non facciamo Narset. E abbiamo poi Kerugone dopo. Oddio, ma ho le due isole sbagliate. Neanche me ne ero accorto. Ok. Fai una creatura. E io te la mangio. Ti mangio questa. Pam. Mazzo squali. In your face. Come non detto. Ma no, ma come? Ma che cattiveria. Ma smorzare. Ma che deck sei? Allora, mai illudersi. Mai essere troppo felici. Io qua faccio... Faccio Narset. Narset. Attivo Narset con la più uno. Faccio gigante sul rapinatore. E attacco. Anche perché mi sembra aggressivo, quindi... Non posso usare il mana di Narset col... Sì che posso. Perché mi hai fatto spaventare così Magic Arena? Dovevo giocare le fumarie. Ma ho visto che non mi faceva fare il gigante. E mi sono preoccupato. Vediamo comunque. Uh. Io qua ho un altro tifone. Abbiamo visto che gioca Quench. Quindi non andrò a fare tifone. Per prima cosa attacco. Potrebbe essere tipo un Temur agroflash. Counter evocation. L'hai fatto. Poi. Io ho potenzialmente sette mana. Più Narset. Potrei scartare e pescare, sì, ma non... Non mi interessa. Quindi facciamo... Che... Pagare due. Che ce li riotteniamo con Narset. Che va in modalità quasi ulti. Poi facciamo che ruga. E teniamo open il gigante Sbriciolaossa. Risolviti pure. E invece da questo tifone di squali proviamo a far value. Quindi a giocarlo come incantesimo. Oppure valutiamo. Nel senso, vediamo cosa ci fa il povero che ruga. Così carino e coccoloso. È proprio carino, eh, che ruga. È simpatico. Ce lo controevoca. Che vi dirò. Non mi dispiace. Almeno ho una buona giocata da fare prossimo turno. La ulti di Narset ci porta a casa il GG. Ciao, ciao. 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 Ciao.